L'importante è... Fare sesso. Per questo siamo qui. Stasera... Gianluigi Fogacci, eccellente attore nonché regista dello spettacolo, e Carlotta Proietti, straordinaria attrice e cantante nonché figlia d'arte del grande Gigi Proietti. Due artisti che sono già una garanzia per un coraggioso cartellone teatrale. Ma chi sono i Prudes? James si presenta al pubblico come James Prudes, ma viene immediatamente corretto da Jessica che tiene ad evidenziare che loro non sono sposati e che quindi sono ben lontani da poter essere definiti i Prudes del titolo. Parola inglese che significa apuritani, moralisti, dimorigerati costumi che hanno in odio scandalizzare. Questa strana coppia si presenta sul palcoscenico di un teatro pieno di spettatori per inscenare e vivere il proprio dramma di coppia, come una seduta terapeutica collettiva. Al centro di questo dramma, il calo di desiderio di James, che non riesce più ad avere rapporti con la sua amata Jessica da molto tempo e che se fallirà anche quest'ultima chance, cioè consumare un rapporto davanti ad una platea nel più puro spirito esibizionistico, sarà abbandonato da Jessica, che non intende passare il resto della sua vita senza sesso. Una commedia divertentissima che già dallo scorso anno riscuote grande successo di pubblico e di critica in molti teatri italiani. Il testo è stato tradotto da Natalia Di Gianmarco, le scene e i costumi sono di Susanna Proietti, le musiche originali di Giovanni Mancini, l'aiuto regia è di Maria Stella Taccone, audio e luci di Matteo Gregori, la produzione del Politeama di Roma. Io ho mani di testa. Io ho mani di testa.